Siamo con Fabrizio Di Stefano che con gli altri tre consiglieri comunali della Lega ha voluto tracciare un bilancio dei primi 100 giorni di amministrazione Ferrara al Comune di Chieti. Non avete risparmiato bordate, cos'è che non va? Normalmente sono le amministrazioni che dopo i primi 100 giorni tracciano il rendiconto, visto che non l'hanno fatto loro, l'abbiamo fatto noi, ricordando quello che è accaduto in questi primi 100 giorni. Sono partiti con la famosa delibera con cui si è ampliato nel numero e nei costi lo staff del sindaco, dove tra l'altro ho trovato spazio anche parenti del sindaco e di consiglieri comunali. Poi c'è stata la delibera in cui si sono aumentati l'indennità di giunta, dicevano per fare beneficenza, a prescindere che la beneficenza si fa con i soldi propri e non con quelli dell'ente, ma poi non abbiamo visto gli effetti. Poi il primo atto politico, dopo aver speso di più, è quello del predissesto e allora mi sono detto, ma siccome Ferrara è stato consigliere comunale di opposizione per 5 anni, ho cercato di vedere nei suoi interventi se quello che denuncia, quell'enorme sperpero della giunta di primi o che denuncia oggi, motivo per il quale si è andato al predissesto, se avesse preferito parola nei 5 anni in cui sedeva in consiglio comunale. Non ho trovato nessun intervento. Allora delle due luna, o nei 5 anni precedenti non c'era motivo di indoglianza e quindi oggi è una motivazione direttamente politica, oppure ha fatto male il consigliere comunale di opposizione per 5 anni e questo non è un buon viatico per i prossimi 5 anni da sindaco. Poi ci siamo soffermati sulla vicenda di San Giustino, hanno iniziato gli scavi, avevano subito detto che avrebbero ricoperto tutti, poi c'è stata una movimentazione della volontà popolare che li ha indotti a una frenata, hanno fatto una commissione in cui hanno detto che avrebbero cercato di salvare, di vedere, di migliorare quell'intervento, tant'è che le organizzazioni che si erano mobilitate hanno applaudito a quella commissione, però salvo poi le stesse organizzazioni di dover dire che visto che stanno ricoprendo tutto, lamentarsi e accorgersi di essere presi in giro. E poi ancora il bando delle menze, su questo non ci soffermiamo a lungo perché c'è ancora una vicenda aperta che potrebbe avere risvolti anche i giudiziari. Una cosa è certa che l'assessore Raimondi ha detto in un certo momento che le buste sarebbero state comunque aperte, poi si è saputo che invece hanno prorogato, vogliamo sapere se le buste sono state aperte e poi richiuse o se aveva sbagliato allora e non le era aperte. E poi continuiamo con le dinamiche del personale, insomma tutta una serie di azioni in 100 giorni che certo non mi sembra sia una buona partenza.